Buongiorno, Hermond. Dove si va? E che ne so, io li seguo te. Dove stiamo andando? Ok, già ci siamo ad Arcinanzo. Poi? Vila di Diperio, un sacco di diamanti, una villa romana antica, del imperatore, Diperio, dove vedi a fare le vacanze, penso che speriamo bene, è una bella giornata, divertente, yes! Bene! Vai, prepariamo un po' qua, vediamo un po' che abbiamo qua, Hermond. Oh, che attrezzo è questo? Che attrezzo? Eccolo, guarda che piccione, è un grande piccione questo, è un grande piccione viaggiatore. Bene! Grazie a tutti! 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 Allora, adesso inquadro Hermond che mi maltratta il drone. e il drone ritorna sempre al suo posto gli schiaffetti vai schiaffeggialo e il drone ritorna sempre al suo posto il drone ritorna sempre al suo posto il drone ritorna sempre al suo posto il drone ritorna sempre al suo posto